Il gioco d'azzardo ha rinnovato la convenzione con la Asle per un'azione dura di contrasto nei confronti del gioco d'azzardo. Fra slot machines, lotterie, gratte vinci, poker online ed altri giochi d'azzardo, la Toscana spende annualmente 3 miliardi e 400 milioni. Quindi una industria fiorente di Stato, quella del gioco d'azzardo. Ma in questa somma chi spende di più sono 30 mila persone, cosiddette giocatori problematici o patologici. E di queste 30 mila persone purtroppo 13 mila sono adolescenti. Da qui l'urgenza di intervenire da parte dell'Aastre all'interno del nucleo familiare per operare un contrasto attivo. Il gioco d'azzardo è infatti una miccia accesa in ambito domestico. E mentre in altri paesi è ristretto a pochi spazi, nel nostro si gioca un po' ovunque. E ancora una volta pagano i gruppi più fragili, cioè i ragazzi, le persone anziane, le persone sole. Ed è importante anche notare che soprattutto nei nostri piccoli paesi, centri aggregativi fondamentali per combattere la solitudine erano i bar, che ormai stanno scomparendo, perché, attenzione, la solitudine è uno stato anomalo dell'umanità e soprattutto pericoloso.